Buongiorno, siamo in compagnia di Donald Wich, che è amministratore delegato di Messe Frankfurt Italia. Buongiorno. Buongiorno. Bene, siamo alla penultima giornata della manifestazione Christmas World qui a Francoforte. Possiamo cominciare a anticipare qualche risultato, qualche sensazione su come è andata questa edizione 2019? Assolutamente, nel senso che siamo ormai al penultimo giorno, quindi possiamo tracciare un primo bilancio della manifestazione che anche quest'anno si è confermata come la manifestazione di riferimento per il settore. Abbiamo ricreato a un mese di distanza dal Natale vero, chiamiamolo così, una considerata natalizia di grande attrazione per i visitatori, tant'è che i visitatori sono in crescita, ulteriore crescita rispetto all'anno precedente. E fa piacere soprattutto la performance dell'Italia, sia in termini espositivi che in termini di visite, dove appunto l'Italia, sia dal punto di vista degli espositori, è sempre, diciamo, il polo di attrazione principale per il design, per l'attrattività delle presentazioni dei prodotti. E come numero di visitatori siamo al secondo posto dopo la Germania. Possiamo dare qualche numero sull'espositore italiano e quali caratteristiche ha? Sì, gli espositori italiani sono appunto molto numerosi, in ulteriore crescita rispetto all'anno scorso. Ci stiamo avvicinando ai 100 espositori, quindi non siamo lontani da questo fatidico numero. E per quanto riguarda le caratteristiche delle aziende, sono delle aziende tipiche un po' del made in Italy, nel senso che molte di loro sono aziende produttrici, che partono da origini e radici artigianali e si stanno trasformando in piccole multinazionali, nel senso che i visitatori che cercano, i mercati di sbocco ai quali hanno accesso, grazie alla nostra fiera, sono appunto mercati lontani, come può essere anche il Far East, piuttosto che gli Stati Uniti, e chiaramente anche l'Europa, l'Est Europa e quant'altro. E ci sono anche alcuni importatori che a loro volta importano prodotti dal Far East e dalla Cina, per esempio, e assemblandoli, diciamo, in termini di assortimento, poi creano dei mondi abitativi che sono molto apprezzati dai visitatori internazionali. Ecco, le date della prossima edizione 2020 di Christmas World? Sì, le date sono analoghe a quest'anno, siamo sempre all'ultima settimana di gennaio, quindi alla fiera inizierà il 24 gennaio del 2020. Grazie e buon lavoro. Grazie a te.